per far sentire il suono segnati che mettiamo l'osso e il cuore su un spigo e caviamo il bacchetto da traversa il bacchetto e poi lo impiremo sopra il culo e poi quello che resta lo impiremo sopra il culo ciao pianistico nooo se devo memorizzare la gps guarda dove c'è il palo sotto ma è pure aspetta che mi serve dai finissi la passata e dopo iniziamo un minimo ma non ho più fratelli, aspetta mamma madonna adesso mi ricordo come si fa adesso c'è il suono o no tu cazzo sei marco vi sono cercato il 980 ehi adesso veicoli, quarta opzione fill level io ho capito tutto ma che sarà un po' ah ma che noterei permessi marco permessi cosa c'è capito permessi ma te dove? sull'f12 no sull'f12 si no quindi si mica cavalli della eppure io posso accedere ma che devi selezionare se hai un'attrizia se no non ti va a fare eeeh qua ma mi vado a fare venire fuori e bancae eeeh giusti qua come cazzo si fa a fare venire fuori e bancae? eeeh quarta opzione no eeeh penso sia la terza opzione ah semi aspetta semi fartigliate come mi serve fartigliate liquido arrivo qua tac a posto grazie fulvio fulvio bravo da una merda fulvio 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 da notare che ti hai fatto più di me io sono partito con una bestia più larga eh tutti già oltre un metà campo pezzente è che non ho fatto sentire nessuno in moto e nessuno lo va a provare e poi questo va a rincuarlo non è vero a mim mi ha fatto provare tutto nessuno no 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 Diego Diego oh così ma quindi io sento io vedi in scenetta eh certo un po' doveva cosa ho sentito qua a me Marco Ceo non ha mai sentito le sono montate in cima e Marco non ha neanche proprio cagato di strisso meglio una brutta persona Cristian morto l'uomo no sono qua immaginare la sienetta dei miei fulvio che si vogliono tramattare su un trattore ah che ti hai da te da fare il martello che batte sennò mi spavento i pesci no io poi sei cagadosso no no Cristian Cristian ehi che ti ho più? e come faccio con cambiare postazione? adesso mi faccio così come te hai cambiare postazione? non faccio più così ma il pesce non parla mia questi disturbi va che se mi batto il salta fa l'aria ti giuro ma metti un ilo eh il gasco il cuirci in cima ma i batten della testa ahahah dai io ho due una volta se ti ricordano di batta no no io mi aspetto perchè per sbaglio mi spatoggio io se casca credenza cosa fai? si chiede tu non ho mai solo credenza il mare credenza no ma se la casca intera la credenza cosa fai? si suicida ahahah eh Cristian tu una cosa ha ahahah Eh dai che faccio Fulvio Oh Fulvio non sta a copiare ma è mio eh Soprattutto vengono e tirano una schiaffa su appellato Eh beh perchè ha un problema Eh Marco Ceo ti sento basso Che cazzo di cuore che avevi? Ti sento basso Mi sento basso alto Bene, strano Ti sento basso Forse perchè avevo il microfono Ma perchè l'hai consigliato caricare i vestiti? Vabbè, eh Marco? Si Ma che siamo pronti? E allora? Ma voglio anche vuol dire però Aspetta Perchè la cerniera della tutta che ha smussato attorno Perchè la cerniera della tutta che ha smussato attorno E' stata tutta la posseduta E' tanto basso se fosse stato un po' più giusto Se resta meglio Perchè non si sente che basta? Poco poco si sente appena appena Guardate che ha smussato i volume del giugo però eh 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 Però a parità comunque con gli altri trattori Ma che fa tanto più bordello sto qua Poglia? Boh Ti giuro? Oh te boh Ma mi è Cristi Mi ero di perdere il ricevo Dovesto mettere il volume del giugo al 40% dei trattori Noi 13 Eh ma mi è sempre il 20% Sennò non si sente i voci bene Esatto non capisco Ma Diego non ha altri che Prima di modificarlo Audio? Eh? Voglia? Per farlo più alto Sì Comparti i motori però Cosa da me dire che mi sono la prima a copertare Ehm Come si è che si è lieva Ehm 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 No Ehm 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 Ocana Ma prima ti hai detto Ravaltato Diego Sì 1 di 3 Ehi, che si capotà! Chi dice che si capotà? Diego! Stupi! Qua! Infatti ha semilatrice! Dai, ciao! Non ce l'ho visto! De merda! Aspetta che voglio sfiorare la pressione! Il solo problema è che si capota spesso! Per forza... Grazie, bu! Quanti cavalli hai? Sui 800 cavalli penso, 900 Lo sento! E' vero! Vieni a provarlo, Margo! Dov' sei io? Vieni in strada, dritta qua! L'unico tocco di dritto... Di dritto è T! Di dritto è T! Io canato! E' un trattore! Vieni a barboni! Aspetta che voglio fare una maniera di farlo stare su! Devo girare! Ho visto che è Ruma, bisogna arrivare! Dai che è più peso, non so! Ancora! Vieni a venti quintali di dritto! Dai, dai a Marco! Guarda che lo metto dritto qua! Puoi fare manovra con le marce basse se non fia un casino! Prego! Faccio oggi! Un pelo del retro, Marco! 40, 90, 140 comunque! E dopo butta dentro la prima! Nooo! E magari il cambio è automatico! Eh... Vabbè comunque... E lo ha! E lo ha! Eeeh! Eeeh! Ecco il cavolo! Eeeh! 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 ahahah Dio mamma mia un tocco più dritto ancora Ehm, qui devi farmi Qui devi farmi? Ma qua non ti riesci a tirarlo tutto? Eh no No? Eh sì, la sì sarebbe un po' stretto Quindi appena sbandi, addio Beh tanto, non sei mia distante, se questa qua Ah se qua? Ah se qua è la strada Oh no no, se lo capisco Se qua è la strada Mi ha fatto un metro, capitano Vai, sempre dritto Ah se questa Ah se qua 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 Questa questa Marco? Questa? Finistra? Finistra E se fa prima a spostarla a man Esatto, lei è un fitingismo Emozionato il trattore Mi raccomando Impuntate già dritto Perché sto quasi da qui E poi da pulling E poi c'è una C in rada E poi canceo Se lei sarà Dottore al volante Sposta il manco possibile E non il freno è un caso Eh E perchè ha tante inercii al motore E freni non è nata Eh, se tu qua sei il forno EMI Bravissimo, te lo hai riconosciuto? Sì, ma hai detto Chris Sì, pensavo che io ero un motore da Drakster Qua è esposto da... No! 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 Ahahahahah Sì, è il f... Ahahahahah Che sei il lasco del volante Ti hai incontrato la rua dentro... sotto terra Ahahahahah Quattro motori sotto qua Mi sono metto del genere Questa che è in realtà Se prima qua f12 traportate sul campo Lo sento No, è quello Perché lei torna là? E' una forza e gravità là Vediamo se hai fatto questo giro Ho visto più veloce che il cuore, più se franca e gomme del rio E' vero Ci trova il 3 140 E' quello tutto No Oddio Che bestie Che bestie Questo sei un mezzo da pista Ok, il montrattore è meno Ah, non so E' la gravità e la tira dentro i fossi No Adesso fa il contrario Ma sarei da farlo con il 1.4? Sei una figata Ma che questa roba qua potremmo farla con qualsiasi trattore Adesso possiamo imparare Vediamo che facciamo una scenetta del tractor pooling 1.455 Comunque il mio track l'ho fatto Tira P del 4 A 80 si cominci a inrabbiarsi E' a 520 E' a 520 E' a 520 E' come ho detto Sì Dove l'ho registrato? Sì E' a 520 Passami Passami Eh, non so Ben, ben, ben Posa il motore del forno Emi Basta che ti cerchi su Google Questo qua E' il forno Emi Ah Sì Comunque è Yolanda di Savoia Se volete l'audio giusto Io l'amma Occhio Ecco io Ecco io Vai che va dentro Appena che il parto va dentro Eeeeeee Eeeeeee Le pietre di voci Che pista sta qua Che vorrei assento cosa? La moda del bloccaio Venivano i musati di oggi Eh, i musati dei magni no L'unico plebdino che c'era Duli presi Bravo amico La Te li metto già dritto Prossimo giro 3 build Chi sei che vuoi provarlo? 3.690 Chi sei che vuoi provarlo? Posso provare a pulo? Gli altri suoni Magari un bello vuoto Di quegli seri A te mi oggi ho appellata Te riusci parterà Vabbè vuoi partire so così Oresti Vieni qua Guarda che feeling che fa adesso Riu riu Ma sono il pene La valla E tira un candeon Ehm 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 Ecco io Ah no Pensavo peggio In che marchi hai sito? In terza Ah ecco perchè non sei che la levava Se ieri in seconda te lo levavi che era un gusto Cioè ti amante fè Te butti a seconda quando sei 30-35 all'ora Va ti fai quasi Se sei capace ti tiri tutta la seconda fino ai 120 in leva Interessante Ehm 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 A cosa si fai tutti in fugito adesso Adesso Vediamo la gara ripresa Ehm E che stasciando? Ehm no Eh no A vedere no La gara è ripresa partiamo da fuori e buttiamo dentro la prima Se ti guardiamo il manuale ti Marco Eh Ora partiamo da fuori Adesso vediamo la gara chi va per primo dentro il fosso Secondo me è Cristian Aspetta che metto in foe, in acca, boom! Iepidrio cancaro! Aspetta che mi metto B! Attenzione! Aspetta che mi metto qua, poi mi hai raggiunto il risultato! Poi mi hai raggiunto il risultato! Notte Marco! Vonti! Partenza! Via! Faccio! Oh, che avevo detto, Mickey? Io lo so, sì! Oh, Attenzione! Attenzione! Attenzione, hai ritirato lì in fondo! No, Dio! No, come buono! Oh, sono partito, levami! Stai per comparti! No! Dove sei? Eh, forse... Tine, stai per comparti! Ci sono più trattori capotati che resto! Ah, non sto! Non ti serve adesso! Non ti serve adesso! Adesso vado a fare il resto e... E il resto irrabbiato perché non c'è il trattore! Va bene, intanto vado a fare il resto! Vado a fare cammino su con il triciclo! Ti senti che le resisti e come hai capito! Ah! Dove sei io? Ehm... Vorrei essi farmi da me! No! Non c'è! Ehm... Eh, se non lei è farmi da me... Sì! No! Cosa sei io questo? Mi è 50, sì! Eh! Eh! Ah, ah! Che bello! E qua mi è rotante anche! Sì! Tutto! Ma tu è rotante, c'è il shop! Come c'è il shop? No, c'è qua! No, lì c'è piccata! No, amico! La rotante di Oreste è Pappero, barra... No, Pappero, barra, Pappero... E il shop! Eh! L'appare 60-40 RCS! E se sta... E se sta... Invertire! C'è resta un MP! No, sì! Però se sta invertire! Un E3724! Cosa voglio! E sai che fa sparire un pochi di mesi tui che mi rompi i piccolini e il shop! E vediamo se ha qualcos'altro da fare! Se no intanto... Per ora... Chris91! Oh! Che bello! Vedo di chi pare! Perché ti vedo doppio? Ma chi? Vedo te! Doppio! Sia qua che là! Sul trattore, sul Valtra e qua davanti! Sì! Ah! Perché sono montato prima! Davo! Un po' dito! Perché cazzo che sono buono di montare! Oh! 3, 2, 1... No! Aspetta! Che se... Se tu... Se tu... Se tu... Se tu resti senta qua! Mi non vedo quindi siamo a posto! E con questo abbiamo concluso! Grazie dell'attenzione e arrivederci! Per la raglia! Per la raglia!